Una situazione, quella della ZTL a Ginosa, che proprio ai commercianti della zona non scende giù. Ieri sera hanno lanciato un grido di allarme all'amministrazione per la perdita e il calo del lavoro. Non possiamo più andare avanti così, commentano. Se chiudiamo, il centro storico non sarà più zona attrattiva, ma perderà insieme a noi che la teniamo viva. Cambiate gli orari, aiutateci, fateci lavorare, almeno durante le festività. E noi sappiamo tutti che a Natale si può. Le vigili, paradossalmente, sono capitate di domenica. Siccome la domenica è fino alle 12, cioè parte dalle 12 la ZTL, chiedevamo gentilmente al signor Sindic se la vigilia di Natale, la vigilia di Capodanno, lasciava aperta H24, qua ci faceva lavorare, se non lavoriamo le vigili, che apriamo a fare? Che tipo di attività è? Un'attività che non lavora, non può lavorare le vigiglie. Secondo me non ha senso. È un giorno straordinario, facciamo un'apertura straordinaria, anche perché obiettivamente, e questo è il movimento serale, vedete quanti turisti, quanta gente, uff, non si capisce. Quindi voglio dire che non ha senso, secondo me. Il sindaco si deve mettere una mano alla coscienza e capire che anche noi abbiamo delle famiglie. Io sono sicuro che lui una coscienza ce l'ha e quindi ci darà retta. Alla fine noi non chiediamo altro che di poter lavorare serenamente nelle nostre attività e soprattutto che lei debba concedercelo perché alla fine con questi orari non si riesce proprio a lavorare. Quindi se gentilmente si riesce ad inoltrare l'orario di chiusura ZTL, alla fine dalle nostre porte se non entra gente non sappiamo in quale futuro possiamo proiettarci. Anzi, il nostro futuro sarebbe semplicemente la chiusura delle nostre pochissime attività rimaste in questo centro storico. Che vorremmo così tanto invece che questo centro storico venisse valorizzato. Tutto qui, anche perché, ripeto, non ha proprio senso mettere questa ZTL in questo periodo anche invernale. Anche perché il movimento si riduce sempre più, essendo inverno, possiamo capirlo nel periodo estivo, ma almeno in prossimità delle festività di Natale di venirci semplicemente incontro. Noi vogliamo semplicemente lavorare, lavorare, lavorare nelle nostre attività. Questi quattro commercianti che siamo riusciti ancora a mantenere sul corso Vittorio Emanuele, che non so per quanto tempo, per fare gli auguri alla nostra amministrazione, che è sempre a disposizione dei commercianti e soprattutto dei noi della ZTL e tutto il resto. Perché purtroppo la nostra amministrazione ci ha promesso, ed è stata una sua iniziativa, dicendo che voleva cambiare gli orari della ZTL e poi è venuto meno dando la colpa ai residenti. Oltre a quello, noi stiamo morendo tutti i commercianti qua giù. Abbiamo iniziato con i paletti e già ci hanno tolto un po' di lavoro. Adesso con questa ZTL stiamo continuando a morire. L'abbiamo pregato, l'ho chiamato io, il signor sindaco, e gli ho mandato messaggi pregandogli di almeno la vigilia, di lasciarci aperto la sera della vigilia. Non mi ha nemmeno risposto educatamente, perché è molto educato. I parcheggi che stanno qua, che sta messo il cartello a mezz'ora, non è mai stato rispettato. È una cosa che noi non lavoriamo nella mattina e nella sera, perché la mattina vengono dal centro a parcheggiare qua e i clienti non si possono fermare. L'altro giorno mi sono permesso di chiedere a un vigile, scusate, ma il cartello perché non lo fate rispettare? Mi ha detto che non era messo sull'ordine di servizio. I cartelli non hanno bisogno di un ordine di servizio, i cartelli vengono rispettati come viene rispettato il cartello della ZTL. Le manifestazioni che vengono a fare tutti in piazza, tutti in piazza, tutti in piazza, il centro storico normale serve per questo. Le piccole manifestazioni dovrebbero farle giù al centro storico, al piazza Orologio, per poter, visto che loro vogliono le persone che devono venire a piedi qua, ma se tu l'hai fatto morire qua, loro stanno ammazzando il morto, perché è in un giasimo morto qua, e loro stanno continuando ad ammazzarcelo. Moroni! Speriamo che fate un sereno Natale, tutti quanti! E soprattutto te ai Ginosini spendete a Ginosini!